Allora, curiamoci un po', ma vaffanculo, teste di cazzo Ciao a tutti e a tutte, oggi siamo con la penultima boss fight di Dark Souls 2 contro il custode del trono e il guardiano del trono Ok, vediamo un po' come fare con questi due stronzi Aia, aia, ma vaffanculo, brutta zoccola, testa di cazzo Ora, facciamo i seri per un attimo, stiamo aprendo la porta nera Molto lentamente E chi c'è qua? Oddio, e lei che cazzo vuole? Ciao Ah sì, bene Bel nome Ah Ottimo Cogliona Mi dispiace, non so proprio cosa dirti Eh, ho capito No Però Non so cosa dirti Eh, va bene Non è un problema Eh, eh, adesso vediamo un po' cosa fare Eh, cioè, gestiamo un po', capito? Non so cosa dirti Eh, non parli più Ok Eccoci qua Eccoci qua Siamo arrivati E stiamo per affrontare i due boss I penultimi boss I penultimi boss Te, che vai a distanza Le mie anime Ah, cazzo Pezzi di merda Ah, vaffanculo Non ci provate Ok Bruttissimo Dove, dove vai? Vieni qua Eh, vabbè Allora Vieni Dai, su Ti faccio il culo Se ti faccio il culo Un bel casino È ancora più minacciosa E fa male lo stesso Sta sozza Ma cos'è? Vabbè, che tipo è so Oii Sei Pezzo di merda Eh, ci hai provato Stronza Dai, vieni, vieni Cos'era? Sei buono, tu Maledetto Coso Brutto Ok Ti sei spenta E sei caduta Caduta Non proprio Perché lui la Tenterà di Rianimarla Coglione Hai perso Troppo tempo Eh? Ecco Guardate Tenta di rianimarla E Andato Ho vinto Eh già Eh già Eh già Ops Aspetta Di nuovo Facciamo il segno E vediamo una cosa Questo È un piccolo Anticipo Dell'ultimo boss E ragazzi E ragazzi E ragazze Chiuderò il video qua Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al mio canale Vi consiglio di andare a vedere Tutti i link Che ho lasciato In descrizione Anche la pagina Facebook E Il gruppo Facebook E la pagina Di Reverser Game E ci vediamo Al prossimo video E ciao a tutti Ciao a tutti